Ciao ragazzi, sto preparando una nuova tisana detox già vi feci due ricette per tisana detox, caso mai vi lascio il video in box informazioni questa qua però è veramente buona, io ne provo tantissime combinazioni che poi basta sperimentare però adesso ne ho trovata una buona buona con i mirtilli e i lamponi non vedo l'ora di farvela provare perché è veramente adorabile, è super super drenante, anticellulite perché comunque i mirtilli stimolano tantissimo anche la circolazione e quindi fanno benissimo proprio contro la cellulite e i lamponi anche contengono tante sostanze molto attive, il limone anche quindi veramente questa è ottima la bevo durante l'attività sportiva, mi piace tantissimo portarmela dietro quando vado in palestra se ne scende invece dell'acqua che magari non se ne scende, questa qua è anche buonissima di sapore super dissetante quindi ve la consiglio poi se i mirtilli che i lamponi sono anche antirughe quindi questa è una tisana anti-age, anticellulite quindi andiamo a prepararla, eccola qua, non vedo l'ora di berla, io già penso a domani quando la berrò quindi semplicemente vado a tagliare i limoni, li faccio grossolanamente così, mi raccomando sempre i limoni bio perché ovviamente sono andata a mangiare le cose chimiche super che ci fanno schifo e quindi li taglio grossolanamente e li vado a mettere in questa brocchetta che mi trovo molto meglio rispetto a quella dell'altro video adesso vi faccio vedere come faccio, è una piccola variante che è molto più pratica poi ovviamente col tempo uno diventa pratico e ognuno trova il suo metodo il mio è questo qua Nancy non trovi pace questo contenitore, magari ti voglio farlo vedere bene giusto, hai ragione e questa com'è buona, è vero quando andiamo in palestra? si è buona poi mentre si fa attività fisica è molto dissetante magari l'acqua non basta per far passare la sete a volte ho detto prima, infatti non se ne scende invece questa qua risulta proprio super dissetante sembra tipo un succo però ovviamente non ha zuccheri e non ha calorie perché ci sono la frutta, quindi ci sono tutte le vitamine però da un sacco di energia per fare attività fisica è vero, è vero, da proprio quello sprint è super dissetante, energizzante quindi ci metto, ho messo, avete visto, città due limoni poi ci metto i mirtilli che sono veramente ottimi anche antinfiammatori quindi anche se uno ha un po' di febbre queste cose qua e poi ci metto i miei amati lamponi vado a come li amo, questi li amo troppo e li metto qua dentro questo lo faccio stare tutta la notte e poi domani le inizio a bere dalla mattina io però la bevo il pomeriggio e ho fatto la palestra quindi mi disse da tanto eccola qua guardate com'è bella, ho messo un litro d'acqua questa domani diventa rossa, rossa violacea rossiccia, troppo troppo carina adesso la metto in frigo tutta la notte e poi domani vi faccio vedere come diventa diventa super super colorata ciao eccola qua dopo un giorno la mia acqua detox adesso io sto facendo così la vado a mettere nelle bottigline e me la porto tipo in palestra così mi disseto pure quando ho finito me la bevo e mi disseto tantissimo rispetto a bere l'acqua mi piace molto molto di più eccola qua guardate com'è bellina tutta colorata rosa troppo troppo bella infatti quando vado in palestra mi guardano le persone dicono oddio com'è invitante quest'acqua che bevi è buonissima mamma mia la dovete fare ragazzi è troppo troppo buona perché è super dissetante poi non è né dolce né aspra è buonissimo questo sapore di lampone e limone sembra di mozzucco di frutta questa secondo me pure sulla spiaggia è buona comunque è ottima ha delle proprietà bellissime veramente per l'organismo e poi è buona quindi cosa vogliamo di più dalla vita spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacione ciao ciao Ciao!